Dottoressa Cerelli, lei è una pediatra del Presidio Terramano. Parliamo con lei di vaccini, un argomento molto discusso, ma di cui è importante parlare soprattutto vista l'obbligatorietà che è stata decisa da un recente decreto. Quali sono i vaccini obbligatori? Le vaccini obbligatori sono 12 e vengono anche suddivisi per fasce di età. Sono obbligatori comunque da 0 a 16 anni. Per la fascia di età dei nati dal 2001 al 2011 sono obbligatori l'esavalente che è l'antipolio, antidifeterica, antitetanica, antiepatite B, anti-HIB, l'emophilus influenza sarebbe, e l'antipertosse. A questi si aggiunge poi anche l'antimorbillo, rosolia e parotite. Per i nati dal 2012 al 2016 abbiamo come obbligatorietà anche l'antimeningococco C. Per i nati invece nel 2017, oltre a essere obbligatori quelli che abbiamo già detto, sono obbligatori anche l'antimeningococco B e l'antivaricella. Spieghiamo perché è stato necessario introdurre questa obbligatorietà. Perché sono necessari questi vaccini? Allora, i vaccini sono una forma di prevenzione sicuramente più importante di tante malattie. In particolare si è visto che negli ultimi anni si è sceso sotto una copertura ottimale, che era richiesta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che il 95% di copertura vaccinale richiedeva. E questo 95% permette per le singole malattie di coprire, non solo di proteggere, non solo chi si vaccina, ma anche per un fenomeno che si chiama immunità di gregge, di proteggere anche quei bambini che effettivamente per malattie importanti non possono essere vaccinati. Attualmente appunto si è sceso sotto questo percentuale. In particolare per il morbillo siamo scesi sotto all'85%, mentre per le altre vaccinazioni tipo l'antitetanica, l'antidifoterica, siamo scesi intorno al 93%. Ricordiamo che questa vaccinazione è fondamentale anche per quanto riguarda l'iscrizione alle scuole dell'infanzia. Sì, allora, per quanto riguarda i bambini da 0 a 6 anni, non fare le vaccinazioni comporta proprio la mancata possibilità di iscriversi alle scuole dell'infanzia, nido e scuola materna. Invece per quanto riguarda l'età successiva, dai 6 anni, diciamo che l'obbligo c'è sempre. Quindi i bambini, i genitori, devono presentare la documentazione al presidio scolastico della venuta della vaccinazione, altrimenti il presidio scolastico, le autorità scolastiche fanno una notifica alla ASL, che poi a sua volta chiamerà i genitori, il tutore, eccetera. E quindi ci saranno anche delle sanzioni pecuniarie, che vanno da 500 a 7.500, 7.200 euro di sanzione, in base alla gravità della mancata vaccinazione. I genitori come dovranno comportarsi per quest'anno? Allora, beh, all'atto dell'iscrizione devono presentare questo certificato di avvenuta vaccinazione rilasciato dalla ASL e in mancanza, per motivi anche tecnici probabilmente, si potrà fare anche un'autocertificazione che verrà sostituita entro dei termini stabiliti dal certificato di avvenuta certificazione. Il termine per quest'anno, per quest'anno di transizione del 2017-2018, è entro il 10 settembre 2017, mentre negli anni successivi sarà entro il 10 luglio dell'anno in corso. E in merito alla Regione come si sta comportando? Allora, la Regione ha attuato un tavolo permanente sull'applicazione del decreto per il monitoraggio delle vaccinazioni nella nostra Regione. Quindi non è esclusa, tra l'altro, la partecipazione dei pediatri stessi di libera scelta all'attuazione di questo decreto, o nei propri studi, o nelle OCCP, oppure negli uffici di vaccinazione di Casalena. Questo perché? Perché ci potrebbe essere una sofferenza da parte delle strutture a recuperare quei bambini che non sono stati vaccinati in precedenza. All'interno delle vaccinazioni previste però sembrerebbe mancarne una. Quale sarebbe? Sì, questa è una cosa anche strana perché manca il vaccino antipneumococcico. Il vaccino antipneumococcico noi l'abbiamo fatto sempre qui ai nostri bambini e devo dire che abbiamo avuto una riduzione, ma proprio io non ne ho visti più perlomeno, di meningiti da pneumococco. Il vaccino copriva non soltanto il pneumococco ma anche le otiti e le broncopolmoniti da pneumococco e non è in questo calendario. Io penso che adesso, insomma, si pensa che in questo asso di tempo dall'uscita del decreto alla sua attuazione tra due mesi potrà essere rimesso questa vaccinazione che ritengo importante.